Centri per l'impiego al collasso che rischiano di non riuscire a garantire i livelli base di assistenza. E' l'allarme lanciato questa mattina da CGL Cisle Will che chiedono alle istituzioni di intervenire per risolvere la situazione di grave emergenza data dalla mancanza di personale. La situazione dei centri per l'impiego della nostra provincia è drammatica, il rapporto operatore numero di popolazione è 1,750 nei confronti di una media regionale che è 1,383 e una media nazionale 1,382 e questo è un elemento già di carichi di lavoro e di qualità di lavoro che viene svolto sul nostro territorio. In totale sono 5 centri per l'impiego sul territorio comasco, l'ufficio di Como, Cantù, Erba, Piano Gentile e Menaggio. Negli ultimi 5 anni si sono rivolti ai servizi per il lavoro mediamente tra le 45.000 e le 55.000 persone sia per adempimenti amministrativi sia per usufruire dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. La provincia di Como ha un carico di lavoro sicuramente più elevato rispetto alle altre province e i dati emersi nella relazione che è stata prodotta dagli uffici lo chiariscono. In più oltre a questo ha un numero di personale, di unità di personale sicuramente ridotto rispetto alle altre province facendo il rapporto numero di abitanti dipendenti. Sono circa una trentina, nel 2010 erano più di 60. Le organizzazioni sindacali spiegano come il destino dei centri per l'impiego sia strettamente legato alle vicende politiche. I centri per l'impiego sono proprio il fulcro di questa riforma che riguarda il reddito di cittadinanza. E su Como il problema sarebbe ancora più grave perché parte da una carenza di organico superiore al 50%. All'appello lanciato dalla presidente della provincia di Como, Maria Rita Livio, i sindacati rispondono. Noi riteniamo che sia fuori tempo massimo, poteva in qualche modo sollevarlo prima in considerazione del fatto che Regione Lombardia ha approvato una legge a giugno. Se proprio vuole fare un atto forte e concreto, anche se siamo in chiusura di mandato, riconsegni la delega a Regione Lombardia.